Ti rendi conto che figura mi hai fatto fare? Zio Franco mi ha detto che oggi doveva essere il tuo primo giorno di lavoro! Dove diavolo sei stato? La gente alla tua età va in pensione! E tu cosa fai? Fai il cretino ancora con le scommesse! Io ti ammazzo! Mi avessi vinta una nella tua vita! Una! Calmati, calmati! Ah, respira! C'è qualcosa che mi devi dire? No. Per esempio, che fine ha fatto la palla di nonna Dele? Eh? Che fine ha fatto la palla di nonna Dele? L'hai fatta sparire, tu brutta merda!